Bene Sergete, che facciamo di questi quattro? Comandante, dobbiamo decidere la destinazione Bene, bene, molto bene, va bene E poi naturalmente li mandiamo a prendere le divise Comandante, a me la smolle Sergete, comunque le taglie decidiamo dopo, scusate Va bene Allora, lei che cosa faceva da civile? Contabile Il contabile Contabile, allora lo mandiamo in fureria Bravo comandante Fureria Siccome è la pena Questa bella signora, visto che bella signora? Benissima la signora Che cosa faceva lì? La casalinga La casalinga La casalinga Va bene, allora la mandiamo in cucina, è ovvio No, 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 non mi piace la cucina Non mi piace Signore, oppure i riletti in camerata Oppure la cucina Va benissimo la cucina, eh Sergete Va benissimo la cucina La cucina Ecco E lei cosa faceva da civile? Io il maniscalco Il maniscalco? Allora lo mandiamo in scuderia Bravo, bravo Beh infatti Mi trovo, mi trovo Bene, quest'altro giovane che cosa faceva lei da civile? E... Alla mitogliatrice Lei Alla mitogliatrice Da pensiere Da pensiere Da pensiere Da pensiere Da pensiere Da pensiere